Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Circolazione depressionaria attiva sul Mediterraneo occidentale. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per mercoledì 10 novembre. Molte nuvole in transito al mattino sulla penisola con piogge sparse sul nord-ovest e isole maggiori, localmente a carattere di temporale su queste ultime. Al pomeriggio piogge sparse su Sardegna, Sicilia, Calabria e Piemonte. Variabilità asciutta altrove. In serata è notata tempo instabile con fenomeni su Alpi Occidentali, coste tirreniche centrali, Molise, Puglia e isole maggiori. Nuvolosità e locali schiarite altrove. Temperature minime, massime, stabili o in aumento al centro nord e lieve calo al sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.